I due aiutori per Jantunen, poi Fagian che attacca bene il centro dell'area, si prende l'estituto aiutato dai ferri, questa squadra col B-Ross dentro l'anticipo di Ellis che produce un recupero per Treviso, palla Noluk di Bex per la schiacciata di Fagian. Riceve Fagian che va fino in fondo, Leonardo Fagian, Bex riceve, poi attacca dal lato sinistro, palla per Ellis nell'angolo per Fagian, bomba sulla tabella, rimbalzo di Ellis per Jantunen, Fagian nell'angolo per Ido, ecco che ha la strada spianata. Bex per Brown, fa saltare Fagian, poi tira l'invalzo di Soroka, spalla lunga con Bex per Fagian che va a inchiodare, va ad accorciare le distanze.